Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video sono maullo941 e siamo tornati su Fall Guys signori siamo tornati su Fall Guys, c'è la season 2 quindi per forza dovevamo far uscire qualche video per forza perché dico c'è la nuova season, dobbiamo sclerare male anche in questa nuova season signori miei, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date al mio canale e ai video vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto su Instagram dove mi trovate come maullo941 in cui tramite le stories vi informo sugli orari delle live e su quale piattaforma le andremo a fare detto questo non perdiamo tempo e con il nostro bellissimo piccione partiamo con il video ok signori, il nostro piccione dalle 4 code vincerà qualsiasi partita raga noi siamo già la season 2, abbiamo fatto sì e no, non so, 10 episodi forse e anche qualche live, non abbiamo mai vinto una cazzarola di partita, porca miseria vediamo se questa season 2 ci porta un po' più di fortuna rispetto alle precedenti chi lo sa signori, chi vivrà vedrà speriamo quantomeno che il nostro piccione dalle 4, il nostro piccione, la tic tac piccione il nostro piccione dalle 4 code riesca ad avere un po' più di fortuna allora, il primo livello che ci tocca fare è quello delle porte dobbiamo prendere a testate le porte signori vediamo un attimino, questo di solito riuscivamo a farlo ma ricordiamo che ci vuole sempre il 99.9% di fortuna in questo gioco quindi non vorrei parlare a bambera come suol dire vediamo, oh partiamo in prima fila signori partiamo in prima fila, abbiamo la banana sulla nostra destra che ci saluta, vediamo se abbiamo fortuna con la prima porta signori testata potente, la prima porta si apre, ok la seconda porta andiamo qui sulla destra dai dai dai, testata potente dai che si è aperta pure questa, raga torniamo qui sulla sinistra, torniamo qui sulla sinistra testata potente raga ma stiamo avendo una fortuna paurosa signori, troppa fortuna, troppa fortuna signori troppa fortuna, abbiamo scendato tutte le porte signori siamo riusciti ad aprire tutte le porte torniamo qua al centro no vabbè non ci credo, non ci credo signori spostiamoci tutta questa parte, attenzione e l'ultima porta abbiamo presa una trambata terribile questa si è aperta, dai così la penultima porta, la penultima porta abbiamo preso una trambata terribile aia e qui c'è la cacciata più totale l'importante, da primi signori guardate quanto stiamo arrivando terribile, terribile l'importante è arrivare, l'importante è arrivare passiamo il primo livello in maniera così a foto finish dai è andata bene, è andata bene è andata bene, è round over, siamo passati va bene, quantomeno il primo livello l'abbiamo passato signori dai così, dai così il nostro piccione si qualifica al secondo round che poi in teoria con questa season 2 io ho già visto su youtube così girovagando per il mondo che ci sono anche livelli nuovi quindi dico questo era un vecchio livello ok, lo sappiamo fare ci è andata bene vediamo se riusciamo a beccare qualche livello nuovo o quantomeno proviamo qualcosa di nuovo perché dico dobbiamo fare sempre gli stessi livelli dico che cazzo l'hanno fatta fare la season 2 va bene però non facciamoci la testa prima di essercela rotta signori qual è il prossimo livello? perfetto quello delle eliche ma che bel ritorno su questo gioco signori come dire c'è la seconda season livelli nuovi ci casiamo tutti e boh boh beh sono beccato subito due livelli che già c'erano nella vecchia season va bene, va bene bello che nel primo siamo passati per fortuna perché stavamo presto eliminati praticamente dopo un ottimo inizio qua vediamo perché dico se ci buttano fuori pure già qua dico che ritorno proprio di figura di parmellata qui su Fall Guys però va bene ci proviamo ci proviamo non ci tiriamo indietro signori noi non ci tiriamo indietro siamo sempre pronti a tutto subito così a volare come dei piccioni volosi dai dai calma calma non ti far fregare ok basta che becchi la prima elica è finita poi se magari mi fa rialzare mi dà il tempo di rialzarmi no non mi dà il tempo di rialzarmi mannaggia a lui e chi non glielo dice pure vi levate le scatole ma porca miseria oh ok e questo siamo riusciti a farlo vediamo se riusciamo a recuperare un po' di posizioni che siamo finiti un po' indietro ci proviamo ci proviamo questa è un'altra cosa fondamentale vai così piccione grande così andiamo direttamente di lato raga perché la parte centrale non ci riesco mai a riuscire salta bravo piccione alza ti alza ti alza ti alza bravo piccione mamma mia che è bravo il nostro piccione fai così mamma il nostro piccione mamma il nostro piccione mi dà delle soddisfazioni enormi il nostro piccione mi dà delle soddisfazioni enormi calma calma devo aspettare l'elica devo aspettare l'elica bravo così bravo così vai piccione no no non ci credo non ci credo raga non ci credo eliminati di uno sputo eliminati di uno sputo no non ci credo no mamma mia che ritorno terribile sul fall guys signori ma che ritorno è ma dai ma che ritorno è sul fall guys dopo mi è uscito così questo fall guys dai ma che schifo ma mi faccio schifo da solo signori ma mi faccio pesantemente schifo da solo quanto è durata questa partita dai così ripartiamo subito decisi carichi dai così voglio un livello nuovo porca miseria voglio un livello nuovo dammi un livello nuovo quantomeno in questo livello proviamo il livello posso metterci il titolo del gioco torniamo su fall guys con i livelli nuovi se mi spunto un livello vecchio dico che paranoia ce la possiamo fare ce la possiamo fare niente signori non 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 mi volevo fare vedere i livelli nuovi gli sto antipatico proprio non solo mi sta antipatico questo gioco ma gli sto antipatico anche io praticamente è un alto livello della season 1 perfetto quello delle porte che si alzano e si abbassano non è destino non è destino tra l'altro partiamo in ultima fila quindi signori belli tranquilli che questo video sta per finire tra pochissimi secondi questa questo no io mi sono fermato perché pensavo di non passare invece no di una paletta ambriaca mannaggia di una misteria vai di là vai di là vai di là deciso deciso piccione salta piccione dai 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 che riusciamo a passare dai che ci riusciamo a qualificare non so da dove passare non so da dove passare alzati ok ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta siamo messi bene siamo messi bene siamo messi bene vai salta grande piccione spanciata 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 tattica spanciata tattica spanciata tattica non è riuscita la spanciata tattica ho cercato di driftare alla fine signori non mi è riuscito completamente mancano gli ultimi due posti e non saremo noi a passare mitici bellissimo così eliminati subito gran ritorno un ritorno scopettate su four guys signori un ritorno di quelli che uno si ricorda traccianti ma perché sono tornato su questo gioco oppure rinnovato il playstation plus per giocarlo va bene detto questo signori miei io vi ringrazio per aver guardato questo video vi spero non lo so spero vi sia piaciuto e a me mi ha fatto piangere e detto questo noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella raga un saluto dal piccione e ci vediamo prossimamente bella raga ciao ciao ciao